Oggi vi voglio parlare del rapporto hotel e OTA in questo periodo di coronavirus. Ciao a tutti, sono Alessia, benvenuti sul mio canale di marketing e benvenuti in questo nuovo video dove voglio fare una sorta di video chiacchierata, dove parleremo del rapporto tra hotel e OTA in questo periodo di coronavirus. Ovviamente sono stata ispirata da voi online, dagli articoli che ho letto perché ho letto veramente di tutto, soprattutto di commenti personali, quindi persone che si lamentavano, soprattutto di booking, che erano costretti a rimborsare i clienti anche se si trattava magari di prenotazioni fatte per agosto 2020 o settembre. Non so, oppure, questa è stata bellissima, ma lo sapete che Booking è in Olanda e quindi non paga le tasse? E quindi un altro, boicottiamo Booking perché adesso ci sta facendo restituire i soldi ai clienti e quindi noi adesso lo boicottiamo e quindi capiscono che loro hanno bisogno di noi. Allora, chi conosce il mio canale sa benissimo che io non sono per non avere un rapporto con le OTA. Le OTA servono, ma vanno usate in modo limitato, anche perché il mio lavoro come social media manager per le OTA è quello di portare le OTA ad avere più prenotazioni dirette adottando una strategia di marketing che li porti ad avere questo risultato. Però ovviamente non disdegnare le OTA perché sono sempre comunque un'ottima vetrina. Però diciamo che state scoprendo l'acqua calda. Voi vi siete affidati a le OTA, avete deciso di non attuare strategie di marketing interne perché in realtà facevano tutto loro. Erano loro che magari attuavano strategie di email marketing, erano loro che si pubblicizzavano, erano loro che avevano la possibilità di fare effettuare delle prenotazioni online con un sito che dava la sicurezza alle persone. Magari il vostro sito non era ben fatto o non è ben fatto, quindi le persone non riescono ad avere la percezione di poter mettere i loro dati in completa sicurezza. Oppure quegli hotel che mettono i prezzi migliori su Booking e sul loro sito invece mettono i prezzi più alti. Gli errori nel corso di questi anni sono stati tantissimi. E ricordatevi sempre che siete voi che siete andati a casa di Booking e Booking a casa sua fa quello che vuole. Decide le commissioni, voi le avete accettate, non è che dice ok, prima ti do il tutto gratis e poi le commissioni te le ho dette dopo. Il Booking deve tutelare quelli che sono i suoi clienti. In quel momento i clienti finali, quelli che prenotano, sono i clienti di Booking e quindi lui va a tutelare loro. Io non so voi, ma nel mio periodo in cui ho fatto la resume manager io ho litigato tantissimo con quei poveretti del call center di Booking perché a volte ricevevo telefonate su cancellazioni assurde, con motivazioni assurde e io ero la prima a dire ma lei si rende conto che non mi doveva chiamare nemmeno? Lei si rende conto che la motivazione è assurda? Che quale risposta lei pretende che io le dia? E così via. Mettetemi nei commenti tutti i vostri esempi perché potremmo scriverci un libro dalle mie e dalle vostre esperienze con il customer care di Booking ma anche di tutti gli altri vota. Per me quella peggiore è quella di Expedia cioè un po' di servizio clienti di Expedia per gli hotel è una cosa tremenda oh loro di te non se ne fregano assolutamente niente invece forse con Booking un minimo di spiraglio c'è ma tornando a noi in questo periodo in cui gli hotel sono stati chiusi o comunque hanno avuto poca occupazione che cosa si è deciso di fare? avete attuato delle strategie di marketing per poter essere più indipendenti? Io ho avuto modo di parlare con il direttore di Unhotella il quale ha messo un articolo sul sito Hotel Domani non sbaglio sì dove praticamente diceva ok cerchiamo di essere più indipendenti dalle OTA e cerchiamo di creare nuovi rapporti con l'agenzia ricordatevi una cosa averne state andando da casa di uno per entrare a casa di un altro la situazione non è molto differente le collaborazioni ci devono essere collaboriamo con le OTA collaboriamo con le agenzie collaboriamo con i tuoi operetti o con chi volete voi ma le entrate principali e le prenotazioni devono essere dirette e quindi dovete attuare tutta una serie di strategie vi invito ad andare a vedere molti miei video di email marketing dove ve ne spiego alcune però vi rendete conto che adesso non vi potete lamentare che le OTA stanno facendo i comodi loro perché devono tutelare i loro interessi di voi non gliene frega niente voi siete un altro hotel su miliardi di hotel che fanno affidamento a loro quindi in questa occasione di coronavirus per quanto brutta sia penso che alcuni anche se pochi avranno imparato questa lezione quindi cercare di essere più indipendenti per poi poter decidere in piena autonomia come comportarsi con i clienti perché magari avreste comunque rimborsato il cliente in tono perché vi rendete conto della situazione magari non era poco possibile c'è il blocco la gente non può viaggiare tanto vale che rimborsi il cliente o magari avreste fatto un voucher ma a casa vostra voi prendete le vostre decisioni e voi avete il contatto con il cliente anche perché poi dall'altra parte booking noi sappiamo benissimo che cosa fa ripeto dico booking ma come intendo tutte le altre OTA loro diranno al cliente chiamiamo l'hotel e vediamo loro cosa dicono nel momento in cui c'è un no non è booking che dice no loro dicono noi abbiamo parlato con l'hotel è l'hotel che ha deciso di non farvi il rimborso quindi loro non saranno incazzati con l'OTA di turno ma saranno incazzati con voi anzi l'OTA ha cercato di tutelarli sono loro i veri eroi della situazione voi siete i cattivi altri di voi invece in questo periodo si saranno lamentati tantissimo ma forse per pigrizia decideranno alla riapertura di non fare niente e quindi ricominciare così come si faceva pre-coronavirus magari il proprio sito non funziona magari è stato accarato il copio è pessimo le foto non sono mai state aggiornate i prezzi migliori stanno su booking non siete in grado magari di fare delle attività di mail marketing perché non c'è personale preparato alla reception una quando faccio formazione del personale perché tra i miei servizi faccio anche questo una delle cose principali che spiego al personale della reception è quello di spiegare loro che lo sconto rispetto a chi ti chiama al telefono rispetto al prezzo di booking lo puoi fare e in quali termini perché comunque l'hotel ci va a guadagno perché credetemi tantissimi online si vantano del fatto che le persone l'hanno chiamato hanno visto il prezzo su booking e loro gli hanno detto no se vuoi ti prenoti da booking quindi un dipendente del genere vi fa solamente danno se non riesce a capire questi piccoli passaggi oppure se non è in grado di fare un'email perché magari si fa un'email chiedendo la capara ma non mette i termini e quindi che cosa serve con la capara se non ci sono dei termini da rispettare quindi nel momento in cui ti chiede il rimborso tu che cosa rispondi se non hai scritto un'email dettagliata quindi non ti puoi dire no se non ti posso fare il rimborso perché abbiamo superato il limite quale limite? Non me l'hai scritto comunque io spero che questo video vi sia servito un attimino a riflettere su quella che è la vostra azienda io davvero vi invito sempre a sedervi a tavolino e cercare di studiare quelli che sono i vostri clienti quello che voi potete offrire studiare il territorio che vi circonda in modo tale da capire come approcciarvi voi al cliente ed essere meno dipendenti da chi fa il lavoro di marketing a posto vostro che sia agenzia di viaggio o OTA o tour operator come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate scrivendomi nei commenti se ancora non vi siete iscritti al canale vi invito a farlo vi aspetto nel prossimo video besos